E' il colonnello Giuseppe Ligato il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Arezzo. Proviene dallo Stato Maggiore della Difesa a Roma nel suo curriculum tanti importanti esperienze come quella nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro. Dobbiamo garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro perché il lavoratore deve sentirsi protetto oltre che garantito nell'effettuazione della sua attività. Indubbiamente il compito principale di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro è del datore di lavoro. Il nostro compito è quello di controllare che il datore di lavoro proceda come previsto dalla normativa vigente. Tra le priorità aumentare il livello di sicurezza percepita. La diffusione capillare dell'arma è la forza dell'arma e aumenta la sicurezza dei cittadini. E' importante che in caso di eventi particolari la risposta sia immediata proprio per garantire la tranquillità della popolazione. I risultati conseguiti sono lusinghieri e questo va a tutto merito dei miei collaboratori che hanno ben operato in passato e sono certo che opereranno al meglio anche in futuro.